si può fare o non si può fare? beh la domanda è scontata, tutto si può fa' però dipende come lo fai e con quello che ti piace di più secondo me quello è il più, il piacere, il gusto vabbè facciamo sta prova dai lanciamo la sigla ben ritrovato come stai oggi è mercoledì 24 24 mazza fa freddo io sto a mezzamani che tu non ti puoi immaginare ringrazio tutti quelli che sono venuti all'evento, è svolto, è svolto il 21 gennaio quindi domenica scorsa mi ha fatto veramente piacere ma io mi sono ammalato perché a forza deve stare fuori visto che mi avete bloccato in modo così e diciamo veramente mi avete catturato e quindi sono rimasto un po' fuori e faceva freddino e mi sono raffreddato nuovamente quindi scusa un po' la voce particolare un po' nasale eccetera eccetera ma questo non è un problema perché già io esteticamente non è che sia una bellissima persona a livello estetico quindi possiamo anche sorvolare su questo allora grazie ancora a tutti quanti ricordo che il 16 marzo sto organizzando una piccola cena e se non ti sei scritto fammi il favore iscriviti così almeno facciamo capire al mondo intero la nostra passione sì bisogna chiamarla passione perché è proprio quella, cioè quella che ci spinge non come dice qualcuno o in tanti che si perde del tempo no non si perde del tempo, lo si vive, che è diverso spesso lo stereotipo di cui parliamo sempre la fretta, la velocità e perché io e perché d'è qua ma la domanda sorge sempre spontanea ma se uno vuole prendersi il tempo se lo può anche prendere, magari rinuncia a qualche altra cosa ma perché deve essere comunque sia condannato per la questione spazio-temporale perché? ma a uno che è serato in modo da lezionare che gli frega che te, con tutto il rispetto non c'hai il tempo e oggi appunto per questo parliamo di qualcosa che dovrebbe essere veloce e celere che spesso secondo me è interpretato e utilizzato non del tutto in maniera appropriata di che te sto a parlare? semplicemente già l'ho parlato un po' fa non ho questa profumazione un'altra ma ho fatto semplicemente i contorni quindi oggi ti sto parlando come tanto hai già letto sul titolo di una, tra virgolette non mi piace parlare della sature veloci perché non ne sento la necessità cioè non sento io personale poi se tu la senti io non posso fare niente io non la sento quindi non parto con lo stereotipo della velocità che nel corso degli anni anche le pubblicità stesse dei prodotti da rasatura non tradizionale ci hanno spinto ad assorbire quindi acquisire come scusante perché poi alla fine voglio dire parliamo se chiaro se vai troppo veloce rischi anche con il monolama di fatta la sgranatura tranquillamente senza pensieri te la fai uguale sta storia che non te la fai è relativa multilama un pochetto un po' più diverso ma uno lo dovrebbe saper usare in modo un po' più preciso invece te corre come un matto e oggi quindi ti parlo di un qualcosa che non ha bisogno di montaggi non ha bisogno di chissà che devi fare infatti te faccio vedere qua sotto c'è la tristezza infinita cioè per me questa è la tristezza più assoluta infinita per quale motivo allora non voglio giudicare chissirate così non lo voglio giudicare perché non non so nessuno per giudicare nessuno io provo quello che è il mondo della rasatura è più tradizionale il surplus per me è il tradizionale profumazioni non ti interessano dei saponi buon per te non ti interessa la metà magari più performante meno performante va bene per te non ti interessa il rasoio va bene per te sono fatti che non mi riguardano io però qui ne parlo quindi il canale è questo l'anima del canale è questo allora di che ti parlo sei pronto? tanto già l'hai vista la gobertina che faccio non te ne parlo ma non è per cattiveria ci mancherà vabbè dai eccolo qua oggi io effettuerò una rasatura completa con Floyd The Genuine ma già l'ho fatta pure tempo fa quando c'era la confezione ancora quella gialla transparent shaving gel e là c'è chi mi dice appunto io al tempo non ce l'ho te posso un consiglio il mercato americano vendono un prodotto che è questo qua si chiama Magic shaving power e una crema depilatoria ti metti in faccia questa stai a posto per un po' di giorni senza mettere la barba che deve essere un piacere un gusto rituale non è che dura quanto non lo so un battesimo una comunione cioè voglio di è normale perché uno poi quando fai video chiacchiera quindi se tu prendi come dico sempre proprio questa è una cosa detta già ridetta prendi il tempo che io impiego mentre mirato e perché pure parlo pure gente che vuole sfatar mito fa video dei 20 minuti ma come detto è veloce moce 20 minuti allora io credo che questi gel come è anche scritto dietro ma non te lo dico io c'è scritto adesso lo andiamo a leggere ripeto non voglio esprimere giudizi lo voglio provare completamente per rivedere come si comporta allora la sua formula non schiumogena permette la totale visibilità delle aree da radere per disegnare alla perfezione la barba e per evitare spiacevoli inconvenienti dovute alle perfezioni della pelle questo ti fa capire ti fa presumere che il prodotto sia più indirizzato verso chi fa i contorni e quindi deve mantenere le linee belle precise giustamente trasparente ma per radersi completamente se volete fare tutto sinceramente poi usa altro detto proprio francamente il balsamo io ogni tanto lo utilizzo ne trovo giovamento mi piace perché no quindi lo so che ho rotto le scatole col sintesi ma siccome è un rasoio che conosco bene tranquillo quindi vado a simulare una situazione di tranquillità completa assoluta quindi senza un rasoio troppo mordente senza troppo fastidi e vediamo quello che esce fuori io adesso non lo so ti ripeto perché fino ad oggi non ho più riutilizzato questi gel da barba assolutamente no perché comunque essendo amante del mondo tradizionale quindi a me piace montare il sapone odorare la fragranza certo non mi metto a far diciamo proprio sommelier cerco di capire un attimo la vitamina olfattiva se mi piace o meno perché c'è pure che un tipo di profumo non ti piaccia no in qualche maniera esiste sta cosa non è che è campata in aria però prefisco molto di più è un gusto mio personale e vedi scorrendo io non voglio condizionare nessuno a fare quello che mi piace a me ci mancherebbe ma se uno ci si ritrova perché no allora ok la metta montata eccolo qui ricordo che la rondellina che vedi qua del sintesi serve a non far non far sì che l'attrito provocato dal manico che poi va a serrarsi sulla barra di sicurezza possa strusciare quindi generare l'attrito ed asportare asportare oggi proprio non c'è plendo e stai a fare la battuta già l'ho capito io e la nodizzazione amico mio io ogni tanto me le mangio le parole tu ormai me le avrai capito no poi sono pure raffreddato allora in primis come cosa più importante logica è inumidire il viso perché senza di questo non si può testare anche una saponetta di marsiglia perché tra le tante cose che mi sono capitate oggi ho letto pure un commento sulla mia pagina facebook io uso il sapone di marsiglia buon per te io no perché devo usare una cosa che non è studiata per il viso perché devo risparmiare uso l'acqua preferisco poi a me il marsigliano è che me faccia un pazietto francamente quindi questo mondo è variegato è giusto anche esprimere le prove ma no di tu lascia perde dammi retta a me la soluzione finale per me è sbagliato poi fate hobbies allora acqua calda vado oggi toro leggermente potrebbe essere polemico non è una polemica è una constatazione ho detto pure a un amico che è venuto il 21 io non me la cioè non è che vada a prendere qualcuno è semplicemente per riportare pure a te che magari certi commenti non li vedi oppure certe cose che mi vengono scritte capire no c'è cercare di fare una valutazione noi comunque non cerchiamo di dire agli altri tu sbagli fa come te pare però secondo me se prendi il tradizionale il metodo tradizionale male non ti fa allora eccolo qua bello geloso allora scusa ma sono raffreddato ma sento allora la profumazione di questo gel è sviscerata così cedro bergamotto peve nero elemi poi il cuore geranio ginevro pino incenso paciuli vediver olibano e guaiaco diciamo che qua è scritto vediver si sente non è eccessivamente forte allora questo è già per me un gesto che mi fa mancare l'utilizzo del pennello me lo fa mancare ti puoi radere con qualsiasi cosa non è che se usi una cosa il risultato non ce l'hai cioè questo è il mito da sfatare non il fatto che conviene più o meno tra virgolette puntare su un discorso qualitativo più idratato più performante ti puoi radere con tutto sai quanto ultimo sono tutorate pure a secco cioè se fa ma perché lo devo fare cioè c'è un'esigenza secondo me vera e propria allora è un po' cascato qualcuno ok cioè capisci no adesso io sono sicuro che il risultato sarà una mappetta ci metto un po' d'acqua giusto perché è giusto pure idratare come idrata il sapone idrata pure il gel perché se no il rasoio mi si impianta subito ripeto io credo che sia più un prodotto indirizzato a chi contorna che comunque fa pochi passaggi quindi no il suo lavoro lo fa limitato a piccole zone non vado a mettere troppa acqua perché se no vado a togliere ok allora bello scivoloso grazie che te ci vado no che te la sabbia dentro normale che è scivoloso no perdonatemi la fortuna che mi sa che il prossimo video lo farò con prodotto e ci ho parcheggiato là da tanto tempo profumazione mi piace veramente tanto e ci ho tanta voglia di fartelo vedere e darti una mia impressione in modo fa per davvero sì lo sto facendo perché qualcuno me l'ha chiesto perché sono obbligato a farlo sicuramente mi mette un po' di ansia vede sta roba qua dentro allora scorrevolezza scella ma per me non è migliore rispetto a un sapone come hai visto io ci ho messo parecchia acqua sperando che mamma mia non si possono vedere queste cose qua sperando che l'acqua appunto poteva in qualche modo dare quel supporto giusto che serve i saponi e le creme per scivolare un po' di più allora per quanto riguarda le finiture è un prodotto validissimo però la raciatura insomma completa preferisco altro io che giustamente essendo gella come vedi rammucchia poi tutti quanti i peli con lo strappo e del taglio lo salto tutto sulle guance non ho sentito grandi cose logicamente l'attrito lo percepisco per carità il profumo c'è là non ho esagerato però c'è là allora mettiamo un fondo di acqua e mettiamo un altro po' un goccino non è nada da prendere troppo però vedi se lo sciacquai bene il viso giustamente i peli ti rimangono pure appiccicati allora io adesso me la faccio così perché sennò se inchioda il rasoio già lo so troppo se lasci troppo prodotto attaccato in viso non non te cammina ecco l'aggiunta dell'acqua un po' Oh. Oh. nel frattempo è ripartita la schiaccia sassi mi fa strano vedere sta roba sembra polvere buttata lì in fondo allora se lo dovessi utilizzare per farti una lasatura completa mio suggerimento è quello di utilizzare l'acqua perché figlio mio sennò veramente senti la resistenza e quindi vai a togliere un po' quella scorrevolezza che la testina del rasoio fa sul tuo viso quindi friziona un pochettino è un po' come il rudder si mi sta dando questa sensazione solo con l'utilizzo della barra pubblicicata l'eserano i modelli c'è di siderato gli moderni qua classico ormai ci abbiamo fatto il callo aspetta non lo sciacquano perché sennò mi friziona troppo o o Grazie. Allora. Questo puntino non lo posso prendere come riferimento o per dire me l'ho tagliato, vedi? Cioè la rasatura te la fai ugualmente. Te la fai ugualmente senza problemi. Magari sono un po' più pensieri, nel senso che ripeto se ami la rasatura tradizionale la musica è diversa perché comunque non c'è un montaggio, non c'è niente, è tutto ridotto a un qualcosa di estremamente essenziale come potrebbe essere una crema da barba brushless. Però se ti dovessi consigliare un prodotto come questo per una rasatura completa, per i miei gusti no. Per i miei gusti no perché ripeto un conto è fare delle micro aree e un conto fare tutto il viso. anche se parte qui come classico, la sgranatura qui come classico, quindi tutto nella norma, diciamo sì per me, anche se per qualcuno non è mai la norma perché sanamente, boh, vabbè, lasciamo a perdere. Però per fare i contorni è eccellente, buona, ne consumi pure poca perché giustamente la porzione lettera è minima, i spostamenti anche del rasoio sono minimi e va più che bene, ma completamente preferisco altro. Ripeto, il profumo c'è, non è così esplosivo, così forte, però c'è, allora ecco il risultato, logicamente se non c'è l'appiccica anche un po' i peli, devo dire che non è appiccicosissima e ora la riscia qua. La cosa che mi fa pensare è che se utilizzi un prodotto del genere, quindi un gel, e utilizzi il multilama, lo sbatterai, perché molti lo sbattono, ma io anche lo facevo, per liberare le lame dai peli. Ricordo a tutti che sbattere le lame addosso la ceramica significa rovinarle, rovinare il filo, quindi ecco perché poi ti dura pure di meno. Allora, devo dire, pelle tranquillissima, leggermente, ma leggermente, leggermente appiccicatina, ma quella è perché comunque il prodotto l'ho messo abbastanza, infatti un po' di risciacquo, non grandi stress, ci mancherebbe, perché uno deve essere onesto quando parla delle cose, certo non mi dà il gusto, è come se devo fare pausa pranzo, ho pochi minuti, mangio un tramezzino, se c'ho tempo, mangio, se ce l'ho, un piatto di pasta, capito? Allora, in soldoni, la sbarbata la siamo portata a casa, ripeto, un po' appiccicatino, un pochino, sì, un pochino, insomma, se si sente, quindi andiamo a prendere il nostro balsamo al vetivava, al vetivava, lo facciamo anche, non ho preso pure troppo, ogni tanto mi piace fare queste cose, perché poi so che girano, e quindi mi ritorna, nel senso, simpatico, no? Ah, cioè, paradossalmente mi sento più coperto così, nel senso che vedo il bianco, no? Quindi mi fa pensare proprio al sapone che mi monta. Allora, esperienza non del tutto negativa, però, ripeto, per il mio gusto, io questo te lo consiglio, se porti la barba, per le rifiniture, aggiungi l'acqua, perché aiuta, tanto, non in modo esagerato, certo, non avevo messo, ad esempio, il balsamo dopo la barba, perché c'ho un quintale e mezzo, perché c'ho tre persone, però, mmm, ne approfitto per farmi un massaggetto, certo che, se aspetto che si assorbe, stiamo qui in altri 40 minuti, eh, perché non ho messo veramente tanto. Allora, sciacquo un attimo la mano, questo è stato uno spreco. Diciamo che la sensazione che ho percepito è stata quella del rasoio, che un pochino, un pochino, un pochino, frizionava, quindi, per quello dico che premisco molto di più, di gran lunga, il sapone, che, tra parentesi, nella linea Floyd manca, quindi, io direi che un pensierino bisognerebbe farcelo, secondo il mio punto di vista, perché credo che non ci sia mai stato, e sarebbe una grande novità, soprattutto per chi ama fragranza classica, The Genuine, della Floyd, o se no, del più famoso, che manca, io sono sempre là come, anzi, uno si è svampato proprio, si è svampato proprio, perché c'è la pompetta attaccata, è entrata all'aria, quindi, del famoso e più ricercato, blu. è ancora troppo, allora, da aver fatto questo, noi ci vediamo, sperando che, ne riesca a parlare, appunto, di quel, se dicevo, prodotto, che, ma come tanti che stanno lì, e, sono più quelli che arrivano, meno di quelli che sto a prova, perché con due video a settimana, di una certa volta, è un po' difficile, parlare, di più, però, me lo auguro, perché veramente, ho una voglia, forte, di testarlo, e di raccontarti, raccontarti, quello che, mi trasmette, a livello olfattivo, vabbè, niente, dai, concludo qua, perché già sono passati 26 minuti, doveva essere una rasatura, tra virgolette, di quelle, senza troppi pensieri, troppe cose, per andare avanti, e ricordo a tutti quanti, che a chi non lo sa, che il sintesi, in alluminio, che pesa veramente, quasi niente, lo dico, costa 74 euro, e 95, e la me dirà, fate due conti, e quante ricariche, poi compra tu, con i multi lama, consideralo, per quanto poi, ogni quanto le cambi, e quindi, quanto spendi all'anno, logicamente, un rasoio di sicurezza, a un prezzo, magari iniziale, più alto, ma col tempo, col tempo, con poco, riesce ad ammortizzare, la spesa, abbassandola, sempre di più, allora, quindi, te parate con che te pare, senza troppi pensieri, logicamente, se avessi utilizzato, un rasoio, molto aggressivo, me sarei completamente, devastato il viso, matematico, al 100%, e per quello, che ho puntato, su una cosa tranquilla, un rasoio, secondo il mio punto di vista, eccezionale, ti permette, di raderti, in tranquillità, la tranquillità, che siano 5 minuti, che siano 10, che siano 20, che siano 45, la tranquillità, il piacere, e il gusto, non siamo obbligati, a fare sfide, che servono niente, a nessuno, allora, ho aspettato, prima di chiudere, perché il senso, un po' di, ce l'ho, ce l'ho, però va bene così, dai, ho messo pure, tanto balsamo, quindi, la pelle adesso, sicuramente, piano piano, prenderà nutrimento, da questo, è un'esperienza, che io non consiglio, per una rasatura, completa, per quanto riguarda, il poter giocare, sulle linee, della barba, anche sì, tranquillamente, ripeto poi, anche il discorso, del rasoio, che prendi, se avessi preso, per dirti, un famosissimo, adesso è difficile, che si trovano, Icon B1, che ha una testa, con un rivestimento, particolare, magari, quello già mi aiutava, nella scoprevolezza, perché cerca, di eliminare, un po' l'attrito, qui non è che, ce ne sia tanto, però giustamente, se mettiamo a confronto, un sapone, che scivola bene, con un gel, che è un, magari un po', tende a fare, un po' di frizione, la musica è diversa, è un'utilità, questo di, va bene, noi ci vediamo al prossimo video, come dico sempre, buone acquisti e buone sbarbate, grazie per aver visto il video, fino a questo momento, ma voi che lavorate radio, ma come fate a parlare così, ma come fate, cioè io due secondi, casco per terra, vabbè dai, grazie per la compagnia, e buone acquisti, e buone sbarbate, a morire da quello, oh pronto, ti sei fatto, ti sei fatti i tagli, ah, sì no, ciao, arriva da qua, schiaccia sassi, senti eh, eh, più o po' mi casca dentro, sono sicuro, sta qui eh, sta qui, ciao, a a Grazie a tutti.